Il gabinetto si può fare dovunque c'è la buona volontà, questa amministrazione comunale non c'è la buona volontà, perché con la buona volontà si fa tutto, perché con tutti i soldini che cogliono e raccogliono dei mercatini del solo pubblico, che cosa ne fanno? Io lo voglio sapere che cosa ne fanno con tutti questi soldini che cogliono del solo pubblico, se le mangiano? Non lo so, perché io sempre ripeto con la buona volontà si può fare tutto, c'è la mala volontà, la buona volontà è di prendere il stipendio, allora sì, là c'è la buona volontà, perché se ci sarebbe la buona volontà a noi anziani che siamo un'ora, due ore qua in piazza a soffrire perché dobbiamo andare a barri a prendere un caffè per andare a gabinetto, è una vergogna di questa amministrazione comunale, si vergognano, non dico altro. Preferisce un bagno pubblico in via Belmont appunto o direttamente in piazza Cavour? Io lo preferisco dovunque, in piazza Cavour o dovunque, basta che lo fanno, ma siccome hanno la facciazza dura come la basola e non lo faranno mai, perché hanno la volontà di prendere il stipendio e basta. Dobbiamo andare cantoneri, cantoneri a fare il nostro bisogno e certe volte, anche la domenica, c'è il casello Chiaramonte che sempre di domenica è chiuso, uno che ha un po' di prostata e viene a fare il bisogno. Dove deve andare? Dove ci capita? Non è vergogna perché siamo vecchi e ci dovrebbero capire il bisogno di un anziano. Il giovane non lo sa, ma noi spero che questa amministrazione capisca. Ma questo bagno in via Belmonte, dove c'era la pescheria, credo io, giusto? Poi sicuramente verrà un gabinetto di lusso, bellissimo, ma non ci credo. Io addirittura dove era prima, dove era prima. Perché? Perché innanzitutto è utile, è messo tipo sotterraneo, però farlo moderno, adeguato, giusto, come si deve. Ma pensa che qui in via Belmonte magari è fuori mano? Ma via Belmonte secondo me, innanzitutto prima che ci sono hotelli, ci sono locali, a me mi sembra un po' difficile che si metta là. Poi se l'amministrazione è così capace di farlo mettere là, ben venga.